Sicuramente la nuova regolamentazione sta aiutando, sta portando capitale. Quello che stiamo vedendo più e più quando andiamo a incontrare i fondi pensione e le assicurazioni a cui chiediamo il capitale hanno dei specifici parametri, dei specifici target di che tipo di fondi vogliono investire, quindi articolo 9, articolo 8, IMPRI, SDG eccetera eccetera. Quindi hanno creato delle tasche di capitale che deve essere allocato solamente per questi tipo di fondi che sicuramente ci aiuta e sicuramente porta capitale in questi settori. È importante anche dire che comunque questi settori sono sostenibili ma sono anche renditevoli da solo. Non c'è bisogno del fatto che il capitale venga perché c'è un label green, ma il profitability è interessante a prescindere.